Sulla morte di Orsola Fallara cala il silenzio, sulla pletora di faccendieri che grazie a lei si sono arricchiti, sul silenzio imbarazzante di scopelliti e sulle strane modalità del suo suicidio i fari si spengono. Oggi i reggini pagano ancora quel decennio di fasti, consapevoli che la verità, quella che fa tremare i polsi ed assegna ad ognuna una parte di responsabilità, non verrà mai a galla.